ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora il video precedente non si è salvato erano le 10 però sono le 11 però cioè di poco vabbè comunque no no questo non c'entra nulla allora prima di tutto volevo dirvi una cosa potete segnalare questa persona saul perché vabbè è successo un casino tipo si vuole bannare perché allora giova pro me l'aveva chiesto se volevi essere salutato quindi ciao giova pro allora comunque oh ecco ciao perché lei mi aveva chiesto dei messaggi e mi aveva detto non lo faccio vedere ora allora non notate tutti i miei screen vabbè 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 dieci sei bellissimo ok no basta non c'entra niente ok guardate c'è una sua grande fan di youtube no ma adesso c'è un tuo video grazie mille sei bellissima a te grazie a te e iniziamo a parlare ciao ciao grazie e poi cosa vuoi dire a youtube ciao mondo sono una tua ah si ragazzo dai se no allora ho letto già male solo con una bravissima youtuber seguitela grazie prego oh poi ho detto ci voglia bene io ho detto ti voglio anche io e tu mi stai registrando parla dei video che ti sono piaciuti di più io ho detto sì poi per prima cosa ti ringrazio perché mi hai fatto cominciare a giocare la lava king oddio ragazze non sapevo o poi vediamo mi è piaciuto tanto il video che hai fatto con mickey mi vedo ora entrambe mickey ciao allora si chiama mickey life potete arrivare a 100 perché c'è quasi comunque vabbè i rumori non faccio caso allora ripeto state guardando il video e scrivetevi perché sei bravissima grazie ragazzi a tutti carissimi io sapete che io vi accontento tutti se volete fare un video con me lo fate vabbè comunque io ho detto grazie è vero ma grazie se non si salva pure questo davvero raga io allora allora vengo lei così perché davvero grazie è vero ma grazie si è dolore al 100% ma prego amore raga davvero grazie cioè io non sarei così brava da adorarmi al 100% però davvero grazie il video dove già che se venite facciamo allora uscire in un video uscire in un video è stato uno dei miei sogni visto che non posso avere il canale si ringrazio non so tranquilli raga tanto io ci sono problemi tranquilli via contatto a tutti oh grazie non so se si è salvato ora vedo e poi non si è salvato ok raga questi sono gli screenshot oddio raga